La Juventus, nonostante un avvio di stagione promettente, si trova ora intrappolata in una fase difficile, con tre pareggi a reti inviolate che hanno lasciato i tifosi inquieti e la pressione che cresce su mister Tiago Motta, chiamato a ritrovare la formula vincente. Ogni partita che passa senza una vittoria erode la fiducia e il slancio, elementi cruciali in un campionato così competitivo. La situazione è diventata insostenibile e i bianconeri devono reagire rapidamente, prima che il malumore diventi insopportabile e si complichino ulteriormente le cose. Nel frattempo il Genoa sta combattendo con i propri fantasmi in questa stagione. Dopo una sconfitta deludente contro il Venezia nell'ultimo incontro, si trovano pericolosamente vicini alla zona retrocessione, avvertendo il peso dell'ansia mentre ogni punto diventa cruciale. Il pubblico di casa spera di galvanizzare la propria squadra oggi, mentre cercano di risalire la classifica e affermare il proprio dominio sul terreno amico. È un momento decisivo e la determinazione dei rosso-blu sarà messa alla prova in questo importante incontro. Juventus' hard-fought victory over Genoa marks a significant turnaround in their Serie A campaign, coming as a much-needed boost after three consecutive goalless draws. This win not only secures three crucial points for the old lady but also revitalizes their confidence and ambition as they look to climb the league table. Juventus' demonstrated resilience and tactical discipline, breaking through their recent scoring draught and showcasing their attacking potential. For Juventus, this victory serves as a critical moment in the season, signalling the end of a frustrating spell that had seen them struggle to find the back of the net. The breakthrough goal will undoubtedly lift the spirits within the squad and reignite their pursuit of higher league positions. It highlights the importance of perseverance and adaptability, reinforcing their belief that they can overcome challenges and return to form. This result could mark the beginning of a resurgence for Juventus as they look to build on this performance in upcoming fixtures. On the other hand, Genoa will be left to reflect on their missed opportunities in this match. Despite putting in a commendable effort, they were unable to capitalize on their chances and ultimately fell short against a determined Juventus side. This defeat may lead to some introspection within the team as they strive to improve their performances in the weeks ahead. Genoa will need to address their attacking inefficiencies to ensure they can secure points and avoid slipping into a relegation battle. The implications of this result are significant for both clubs. For Juventus, this victory is a much-needed step in the right direction.